Sono arrivato qua con un obiettivo, quello di cercare di giocare il più possibile. Ho scelto Frosinone per il fatto che mi ha dato questa opportunità. So che saranno sei mesi in cui dovremo lottare tutti insieme per questo obiettivo. E poi rispetto all'Atalanta sono veramente carico perché non dico che mi devo togliere qualche sassolino, però ho voglia di farmi vedere che magari anche loro in questi sei mesi hanno sbagliato qualcosina nei miei confronti. Poi speriamo soprattutto che, visto che hai detto che in casa non abbiamo mai vinto, quindi magari il 20 gennaio proprio contro l'Atalanta possa accadere questa prima vittoria. Io sono arrivato qua e mi sono fatto la scelta a gennaio di andare via da Bergamo per cercare di giocare il più possibile a livello personale, soprattutto anche in vista degli europei Under 21 che ci sono a giugno, quindi cerco di entrare a far parte del gruppo. E poi, come hai detto te, tutto questo passa anche dalla squadra e soprattutto dalla salvezza. Ho giocato quattro volte contro Frosinone e ho visto sempre un ambiente carico e voglioso, nel senso che il pubblico dava sempre una grossa spinta alla squadra. Io, essendo di Cesena, che sono abituato con la curva mare che è veramente sempre carica, sempre tutto e diciamo un po' ho rivisto questa voglia da parte dei tifosi di incitare sempre qua a Frosinone. E sì, è stato probabilmente anche questa un po' la scelta mia gennaio, nel senso che ho cercato l'ambiente mio più ideale per cercare di giocare, però che ci fossero anche le condizioni nel quale ci fosse una società comunque sia sana, ci fosse anche un tifo che aiutasse sempre la squadra. Grazie.